È arrivato l'arrotino. Arrota, coltelli, forbici, forbicine, forbici da seta, coltelli da prosciutto. Donne, è arrivato l'arrotino e l'ombrellaio. Aggiustiamo gli ombrelli. L'ombrellaio, donne. Ripariamo cucine a gas. Abbiamo i pezzi di ricambio per le cucine a gas. Se avete perdite di gas, noi le aggiustiamo. Se la cucina fa fumo, noi togliamo il fumo della vostra cucina a gas. È arrivato l'arrotino. Arrota, coltelli, forbici, forbicine, forbici da seta, coltelli da prosciutto. Donne, è arrivato l'arrotino e l'ombrellaio. Aggiustiamo gli ombrelli. L'ombrellaio, donne. Ripariamo cucine a gas. Abbiamo i pezzi di ricambio per le cucine a gas.